Ecco sono andate via alcune persone, sono arrivate altre e come vedete c'è un via vai continuo, ecco questo ragazzo è arrivato a Bu, adesso è anche Paride, Paride a Bu benvenuti, benvenuti, sono andate via alcuni, sono arrivati altri che c'è un movimento continuo e costante, grazie a Dio perché la gente anche che va e che viene, ecco Dilprit qua, ciao, ciao, bentornati, è venuto tuo padre a cercarti, è arrivato il papà per cercarti, voleva sapere dove eri, prendete un po' di pizza, ecco i bambini che prendono le pizze, bene bene bene, il padre Dilprit di questo ragazzo che qua dietro ci ha portato le salsicce, salsicce buonissime che lui lavora in macelleria, noi lo ringraziamo e ringraziamo Signore per quello che ci dà tutti i giorni, tutti i giorni siamo felici di essere insieme e grazie a Dio, grazie a Dio. Grazie a Dio, grazie a Dio.